bentornati bentornati sul sul canale e buon 25 aprile a tutti buona festa della liberazione a tutti una festa che è stata spesso strumentalizzata sarà verso spesso fatto oggetto di diatribe politiche ma in realtà è la festa di di tutti noi che anche grazie se non soprattutto a quelle giornate lì siamo siamo liberi siamo liberi dal nazifascismo e siamo liberi anche oggi di poter dire la nostra sul calcio anche grazie a persone che hanno sacrificato la vita in quegli attimi in quei giorni li eppure ripeto una festa che viene vista come una festa anti una festa troppo pro una festa divisiva questo è la nuova moda del momento no politicizzare tutto polarizzare tutto e non rendersi conto invece in questa maniera sia particolarmente sciocchi per non dire altro una liberazione tornando ai temi che ci riguardano più più da vicino quindi quelli calcistici beh una liberazione devo dire l'ha vissuta anche anche simone in zac e con lui gran parte dei tifosi dell'inter la liberazione a questo da questa sorta di tabù che era o che qualcuno voleva sembrare fosse la vittoria dello scudetto dell'inter di inzaghi l'inter ha vinto lo scudetto tre anni fa ma era vinto 800 anni fa è l'ultimo che aveva vinto appunto e allora si può parlare in questo senso di liberazione io direi più che liberazione dal tabù del scudetto dell'inter di inzaghi la liberazione dalle tante stronzate che si sono sentite in questi in questi anni non in queste settimane in questi mesi in questi anni e c'è è innegabile c'è un senso di liberazione per conto mio l'unica l'unica l'unico fattore che è mancato l'unico dettaglio che è mancato in questa vittoria brillante dei nerazzurri è quello di un avversario di livello e non mi riferisco tanto al campo perché lì l'inter ci sono dei meriti chiaramente delle avversarie ma io vedo tanti anche tanti tanti se non soprattutto meriti dell'inter che ha fatto il vuoto e ha lasciato le briciole alle 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 rivali io vi parlo soprattutto di un livello di di sportività di un livello di di competizione tra uomini io ricordo molto lucidamente il tweet perché all'epoca era ancora twitter dell'inter che si complimentava con il mian per lo scudetto e ricordo zero polemiche da parte dei dei protagonisti in maglia nera azzurra per lo scudetto del milan zero polemiche in quella coda finale di stagione in cui dall'altra parte invece si ci si auspicava cose che finora non erano ancora successe e l'inter non rispose rispose sul campo però a fare il suo arrivò dietro al milan i due punti perse con lo scudetto e ci furono le lacrime amare san siro dopo inter sampdoria ma da lì l'inter ripartire ancora più forte e questo scudetto nella dimostrazione e quindi fu un avversario di valore per lì l'inter stavolta prima la juve poi il milan non lo sono stato bisogna riconoscerli ai discorsi collaterali ridicoli di marotta league eccetera eccetera si erano aggiunti prima da parte juventina i discorsi vari no i paraocchi guardie ladri a stuzzicare lelo verbale provocazioni mai raccolte correttamente dal club nera azzurro dai protagonisti nera azzurro se non qualche mi proprio minima puntualizzazione come quella di acerbi o alcune proprio minime in zaghi ma senza scendere nella all'invettiva rimanendo sempre su un livello non superiore su un livello corretto che poi in italia livello corretto sembri superiore ecco anche qui facciamoci due domande quando il testimone è passato dalla juve al milan la situazione non è che è migliorata non è che è migliorata e il derby secondo me conclusivo della di lunedì scorso ha riportato a galla uno stile discutibile io ho scritto in questi giorni da marsiglia al meazza quella di marsiglia vabbè lo sappiamo insomma no le luci spente stavolta si è alzata la musica dopo che in campo nei giocatori del milan si era notato già un discreto una discreta frustrazione fin dai primi minuti in diversi protagonisti culminate poi con le le sceneggiate di adli l'espulsione di teo ornandez l'espulsione di calabria il non complimentarsi con nessuno tutto proseguito con quella quella musica tecno fastidiosissima sparata a tutto volume peraltro neanche come era un po' capitato dopo i festeggiamenti dello scudetto del 2022 neanche prendendosi le responsabilità e come Ibraimovic aveva aizzato e poi non concluso il coro da lui stesso innescato contro un collega avversario rivale ex compagno di squadra per non parlare poi dei cartelloni su Inzaghi degli altri insulti sempre da quel pullman di giocatori non di tifosi io vi parlo di tesserati badate bene perché poi il tifoso c'è chi è più educato chi meno ma quello un po' in tutte le tifoserie francamente io vi parlo di tesserati la cosa quindi ha una rilevanza piuttosto diversa quella musica che ha compromesso anche il lavoro di diversi colleghi immediatamente dopo il post partita a bordo campo quando non si riuscivano ad ascoltare a un metro di distanza si era con quella goffa giustificazione dell'ordine pubblico prontamente smentita dalle forze dell'ordine quindi ecco neanche prendersi la responsabilità si stiamo rosicando e volevamo sporcare la vittoria in stile Barcellona 2010 con l'idranti ma non funziona così e infatti zero zero festa rovinata zero complimenti pubblici da parte del Milan se non quelli in camera caritatis di Furlani se non sbaglio e quelli un po' a mezza bocca di Pioli nel post partita per il resto il Milan è una di quelli pochi club una di quelle poche società che pubblicamente non si è complimentata con lo scudetto con l'Inter per lo scudetto e ho sentito qualcuno o qualche collega anche parlare sì vabbè ma i social i social dipende da chi li usa se li usa un normalissimo tifoso anche sti cazzi ma i social per le istituzioni quindi anche per i club sono a tutti gli effetti un organo di informazione un mezzo di comunicazione tant'è vero che anche gli annunci banalmente del calciomercato arrivano pure sui social quindi non ci nascondiamo stanno a rosicà e questo per durare non fa altro che invece dall'altra parte far capire che il guaio tra virgolette il guaio sportivo procurato all'avversario è bello grosso la mazzata è stata bella pesante quindi doppio autogol da parte mia e questa è un po' una figuraccia come avevo detto già subito nel post partita una figuraccia che svilisce la competizione perché è sempre bello avere la meglio di un avversario di valore e non di un avversario senza valore qui parlo di valore extra campo guardate bene non parlo di valore in campo che lì se la sono giocata però il gap è quello è quello insomma la fotografia del campionato del campionato di sera di quest'anno è quella lì come l'anno scorso lo fu per il Napoli è un avversario non di valore fuori dal campo perché per loro innanzitutto perché svilisce svilisce soprattutto il loro la loro identità e poi anche della competizione perché ripeto io preferisco sempre battere un avversario valoroso che non un avversario non valoroso ma ognuno è ciò che è siamo chi siamo un saluto grazie a te perciò che Bathur eh crisp grazie a te ecco dist azioni